5 Stelle, Federico Dincà, sentiamo. È un segnale sicuramente forte, ma noi siamo qui con la virtù e con la forza di poter cambiare il paese, non di cambiare il movimento. Abbiamo più volte detto che nei principi basilari del movimento vi sono una sana rendicontrazione, una trasparenza. Abbiamo all'interno due mandati, abbiamo la volontà di non fare correnti politiche come fanno gli altri partiti. Chi non ha questa intenzione, chi non segue questa strada, può tranquillamente dimettersi. Andare comunque contro i principi del movimento, avere delle valutazioni soltanto dell'esternazione attraverso i media, avere questa contrarietà alla strada insieme intrapresa in assemblea, questa mancanza di etica nei confronti delle persone che ci hanno eletti e anche dei gruppi locali. Questo, a mio parere, è un tema fondamentale per cui si può decidere anche di prendere un percorso sereno, un percorso che forse soltanto il movimento può farlo, perché sa decidere il bene di oggi senza guardare le conseguenze di domani.